Sto per uscire, 76esimo giorno senza la mascherina, ma oramai questa mascherina è diventata la tessera obbligatoria di partito. Non puoi salire sui mezzi pubblici, non puoi entrare dentro i negozi se non ce l'hai. Per me mi rende furiosa questa cosa, perché appunto non avendola portata per 76 giorni, se dovevo contagiare qualcuno, l'ovrei fatto una volta ogni 15 giorni, dovrebbero essere tutti sterminati quelli che mi abitano vicino, invece godono tutti di ottima salute. Oggi proverò di nuovo a non indossarla andando a piedi, d'altronde ossigenarmi il cervello e il corpo mi fa molto meglio. Ho provato per 76 giorni a fare ragionare un fratello, a cui voglio molto bene, due lauree, ex comandante dei vigili urbani. Non si può, non si può aiutare nessuno che non voglia essere aiutato. Perciò ora, siccome spreco parecchia energia nel cercare di far riflettere, almeno il mio consanguineo, ho deciso che adesso si interrompono i rapporti. Io lascio andare, non posso salvare nessuno, ma proprio nessuno. Posso al massimo cercare di salvare me stessa. Va bene, affrontiamo questa giornata dove mi obbligano a indossare la camicia nera. Grazie. Grazie.